Buongiorno a tutti, ringrazio gli organizzatori, ringrazio tutti i presenti, ringrazio in generale un evento che ci ispira alla pace e alla tutela del creato. Mi dispiace molto di non essere presente, ma i sopravvenuti impegni istituzionali mi impediscono di venire in presenza lì da voi. Il tema oggi è veramente importante e riguarda tutti noi da vicino, gli effetti dei cambiamenti climatici sulle città, sulle persone, sull'ambiente, il nostro agire in solidarietà con il creato, il nostro agire per la pace. È stato detto, mi pare, nell'intervento precedente benessere per le città e cittadini vuol dire portare una componente molto forte in favore della pace. Noi come Agenzia del Demanio abbiamo avviato un nuovo corso da circa due anni adottando una visione nuova nel nostro intervento, nella nostra missione istituzionale che è la tutela del governo del patrimonio immobiliare pubblico e questa visione nuova dà centralità al territorio all'utenza. La nostra utenza è le pubbliche amministrazioni che fanno la logistica per le pubbliche amministrazioni, ma la nostra utenza sono anche i territori che ospitano i nostri immobili, i cittadini e le città. Quindi c'è da domandarsi come portare benessere alle città, ai cittadini attraverso il nostro patrimonio immobiliare che gestiamo, il patrimonio immobiliare dello Stato. Ciò riconduce il ruolo di gestori dei beni dello Stato a una relazione di valore con il territorio. Una visione che però richiede, si è parlato qui di investimenti, ho visto nella panel precedente, ma l'investimento maggiore è il cambiamento culturale. Si tratta di una stretta collaborazione tra istituzioni centrali e territoriali che ci proietta in una dimensione etica. Agiamo insieme per il benessere dei cittadini, a tutela dei beni comuni che sono l'ambiente e il patrimonio immobiliare pubblico. Se il concetto di gestione del patrimonio dà l'idea di qualcosa di amministrativo, magari burocratico, di custode che amministra, la visione dell'agenzia di cui sto parlando, che trasforma questo concetto in un impegno, un'attività propulsiva volte al soddisfacimento dei fabbisogni e della collettività, a dare supporto agli enti territoriali, a stringere solidarietà con le pubbliche amministrazioni, gli enti e i cittadini per portare rigenerazione e sviluppo attraverso i nostri interventi. Il creato non può essere difeso da soli, è stata citata a Madre Teresa di Calcutta una goccia in un oceano, però quella goccia è importante che ci sia. È ovvio che il creato da soli ci sentiremmo impotenti, proprio per la sua grandiosità, ma la responsabilità di ciascuno di noi, ognuno nel proprio ruolo è davvero importante. L'immobile pubblico coglie l'opportunità del mutato contesto per restituire ai territori logistica innovativa, servizi moderni, un modello di immobile che possiamo considerare un building as a service. Per fare tutto ciò è indispensabile costruire una rete tra l'agenzia del demanio, gli enti territoriali, gli stakeholder che operano al settore, il mercato. La valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico va inserita in un contesto di pianificazione per massimizzarne i risultati. Il punto di riferimento dei nostri interventi è la pianificazione urbana, la pianificazione dei territori e delle città. A quella dobbiamo rivolgersi per massimizzare il valore dei nostri interventi, per creare quella relazione di valore di cui parlavo prima. Un modello di gestione innovativo e trasversale che ha come fulcro la rete. Quindi io qui vorrei parlare oggi, abbiamo tanto presente gli effetti della rete digitale che talvolta sono anche un po' devianti, invece oggi parlerei una rete di rapporti stretti e relazioni tra istituzioni, le persone che le rappresentano, che cooperano e lavorano insieme a un obiettivo comune. Con il nostro lavoro concorriamo agli obiettivi di sostenibilità, di transizione digitale e innovazione del Paese. Contribuiamo al benessere delle amministrazioni attraverso una logistica innovativa, ai cambiamenti degli stili di vita delle amministrazioni e degli utenti, alla rigenerazione del territorio per dare un contributo alla pace, che è la nostra goccia di cui oggi vi ho parlato. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie.